Musica Incendi dolosi sul Vesuvio, aperta un'inchiesta, la procura di torre annunziata, apre un fascicolo per ora a carico di ignoti, intanto stamattina sono riprese le operazioni di spegnimento, De Magistris una ferita aperta che riguarda tutti. Crollo di torre annunziata, dieci avvisi di garanzia, sono indagati i proprietari degli immobili non crollati, il retroscena, ci fu una riunione prima del disastro, intanto stasera una fiaccolata in ricordo delle otto vittime, venerdì i funerali celebrati da sepe. De Luca e i manager, subito la svolta, comincia il percorso di risanamento a cui è chiamato il neocommissario alla sanità, ieri il passaggio di consegne e la convocazione dei manager delle ASL ai quali il governatore ha chiesto massimo impegno. Lavoro in cambio di soldi, tre arresti a Benevento, promettevano posti di lavoro alla clinica Maugeri in cambio di denaro, tre persone arrestate questa mattina dai carabinieri del NAS nell'ambito di un'inchiesta della procura sanita. Coca e Ashish in villa, quattro arresti in Irpinia, a Grotta Minarda quattro persone spacciavano cocaina e Ashish nella villa comunale, incastrati dai video dei carabinieri di Ariano. Le indagini hanno inchiodato altri sette soggetti in flagranza di reato. Tiziano Ferro a Salerno, la carica dei 30 mila, sold out la Reiki per il concerto di stasera del cantautore romano, i primi fans già in fila dalle prime ore del mattino. Ad Avellino a Ferragosto ci sarà Arisa mentre a Benevento inizia la rassegna città spettacolo. E questi erano i titoli di oggi, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel News. In apertura le fiamme sul Vesuvio, la procura di Torre Annunziata apre un fascicolo d'inchiesta per incendio doloso, per ora a carico di ignoti. Intanto Canadeira ancora in azione sgomberato, un residence per migranti a 800 metri di altezza. Nel pomeriggio è atteso ad Ottaviano il ministro dell'ambiente Luga Galletti e il sindaco De Magistris dice quegli incendi una ferita per tutti noi. Vediamo il servizio. Il Vesuvio in fiamme, famiglie evacuate, ristoranti sfollati, fumo nero irrespirabile, una colonna immensa di cenere che si è posata sulla città di Napoli, poi sui comuni vicini fino ad arrivare in Irpinia e nel Beneventano, dove il cielo si è colorato di rosso. Sembrava un'eruzione, sembrava di rivivere le scene del 1944. Va in fiamme il Parco Nazionale del Vesuvio con otto incendi dolosi, tutti partiti nello stesso momento, tutti in zone impervie. Stavolta chi ha dato fuoco al Vesuvio ha deciso di fare le cose in grande per rendere quasi impossibile lo spegnimento. Ha utilizzato animali vivi, probabilmente gatti, per alimentare le fiamme. Un fronte di fuoco lungo due chilometri, impossibile da tenere sotto controllo. È l'uomo contro la natura, la popolazione vesuviana esasperata e terrorizzata con l'incubo delle fiamme sotto casa. Federalberghi denuncia, sta andando in fiamme il futuro turistico dell'aria. L'intera economia di Costa del Vesuvio rischia di essere messa in ginocchio da questa emergenza. E il sindaco dei magistri stuita immagini che fanno male. È una ferita per tutti. Vogliamo cominciare a pensare che le priorità di questo paese sono la difesa del territorio. Non è pensabile che ancora una volta non si faccia nulla di significativo per prevenire l'emergenza siccità per gli incendi. Guardate le flotte aeree della protezione civile come sono state ridotte. Quella ferita del Vesuvio è una ferita che colpisce tutti noi perché sta bruciando la nostra montagna, stanno bruciando boschi. Una linea di fuoco lunga quasi 5 chilometri ha devastato anche il Salernitano, le montagne comprese tra Nocera Superiore e Santa Lucia di Cava dei Tirreni. E in Irpinia hanno bruciato le montagne di Montoro, di Mercogliano e di Monteforte. Intanto la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d'inchiesta. L'accusa è di incendio doloso per ora a carico di ignoti e da questa mattina sono tornati a volare i mezzi aerei. Sulle aree ancora colpite dai roghi operano in particolare tre Canadair. Un pullman tra le fiamme a Battipaglia, 30 ragazzini di una scuola di danza salvati dai poliziotti. L'episodio è accaduto sulla A2, l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dove due agenti del commissariato di Battipaglia hanno notato il bus in fiamme. I poliziotti sono riusciti a fermare il pullman e con gli estintori hanno spento le fiamme mettendo in salvo tutti i passeggeri ed hanno predisposto con un bus sostitutivo il ritorno dei bambini e dei loro accompagnatori a Catania. Il crollo della palazzina di Torre Annunziata sono dieci gli avvisi di garanzia a destinatari proprietari degli immobili non crollati. Intanto stasera una fiaccolata in ricordo delle otto vittime e venerdì i funerali in Basilica celebrati dal Cardinale Sepe. Sono dieci le persone iscritte a vario titolo nel registro degli indagati dalla procura di Torre Annunziata per il crollo della palazzina di via Rampanunziante. Le ipotesi di reato sono crollo colposo e omicidio plurimo colposo. A essere raggiunti dall'avviso di garanzia sono in particolare tutti i proprietari degli immobili non crollati. Allo stesso tempo sono una ventina i familiari delle vittime raggiunti da altrettanti avvisi in quanto persone potenzialmente offese al fine di poter consentire loro di nominare i consulenti legali e medici in vista dell'effettuazione delle autopsie e dei rilievi tecnici nelle zone interessate dal crollo. Oggi oltre alle autopsie sono stati formalizzati gli incarichi per i tecnici che effettueranno i rilievi sul cratere del cedimento e nella parte della palazzina lato mare non crollata. L'informazione di garanzia notificata a tutti i proprietari e persone interessate e coinvolte nel tragico evento rappresenta un atto dovuto. Tale elemento viene accolto con serenità e spirito di collaborazione nel solco di quanto già stava avvenendo. Lo dice l'avvocato Roberto Cuomo, amministratore della palazzina crollata. Gli organi inquirenti offrono in tal modo un'opportunità a tutti gli interessati di nominare i propri consulenti partecipando insieme alla ricerca della verità. Intanto questa sera è prevista una fiaccolata in ricordo delle vittime del crollo. Alle 21 associazioni, familiari e cittadini comuni si raduneranno all'esterno dello stadio per commemorare le persone che hanno perso la vita nel cedimento della palazzina. Cambiamo argomento e parliamo di sanità. Comincia subito il lungo e complesso percorso di risanamento a cui è chiamato il neocommissario De Luca. Ieri il passaggio di consegne e la convocazione dei manager delle asle napoletane ai quali il governatore ha chiesto il massimo impegno. Ma sentiamo Rossella Strianese. Non ha perso tempo De Luca. Il compito che lo aspetta del resto come commissario della sanità campana fa tremare i polsi. Gli adempimenti più urgenti da tradurre in decreti sono gli atti aziendali delle asle. Per questo ieri il governatore ha convocato i manager delle tre asle napoletane, Forlenza, Costantini e Damore che da sole riguardano una popolazione di 3 milioni di abitanti. L'incontro è avvenuto subito dopo aver ricevuto il passaggio di consegne dal subcommissario Claudio Damario che resterà al suo fianco. Il primo scoglio è l'esame di fine luglio fissato al tavolo interministeriale di verifica che ogni quattro mesi accende riflettori sugli adempimenti dei livelli di assistenza. Rigore documentale e tecnologico, le parole d'ordine di De Luca. La partita ha un valore finanziario di 3 milioni e mezzo e se da un lato bisogna guardare ai conti, dall'altro la bilancia deve pareggiare sui servizi. La prima risorsa è il personale. Per questo De Luca ha convocato già per lunedì prossimo la riunione intersindacale medica che non si riuniva da ben due anni. Poi bisognerà affrontare la sfida della riorganizzazione del territorio, prevenzione materno-infantile, salute mentale, cure per anziani e malati cronici in modo da liberare il pronto soccorso degli ospedali dagli accessi inutili. Poi ci sono gli ospedali e il piano ospedaliero, da realizzare le reti hub e spoc con servizi a complessità differenziata per garantire le attività di alta specializzazione. Ma l'elenco in agenda è lungo, va dalla programmazione dei tetti di spesa delle strutture private accreditate allo sblocco delle risorse per le edilizie ospedaliere a circa un miliardo e 300 milioni in teoria già disponibili, ma in realtà sospesi nell'accordo di programma da stipulare con il Ministero della Salute. Per De Luca, commissario, il compito è arduo. Da qui a fine anno ogni giorno un obiettivo, ogni settimana una scadenza. Insomma, un gran lavoro che tutti staranno ad osservare con attenzione e c'è chi come Cinque Stelle e l'opposizione in Consiglio si dicono già pronti ad aspettarlo al barco. C'è anche un direttore di banca bolognese fra le persone arrestate dalla Guardia di Finanza in una vasta operazione contro un gruppo criminale legato a diversi clan camorristici con 16 misure di custodia cautelare. Contemporaneamente le fiamme gialle stanno eseguendo il sequestro preventivo di un ingente patrimonio del valore complessivo di 700 milioni di euro. La base delle attività illecite, principalmente investimenti immobiliari e truffe alle assicurazioni, era in Campania, ma l'organizzazione avrebbe operato anche in Emilia-Romagna, Lazio, Abruzio, Umbria e Lombardia. E ancora mistero sulla morte della piccola Martina, la bimba di tre anni residente nel campo Rom di Scampia. La piccola è stata trovata nuda, adagiata sul sedile posteriore dell'auto del nonno. Vediamo il servizio. Era nuda, il suo corpicino adagiato sul sedile posteriore dell'auto in cui è stata trovata morta. La piccola Martina, la serba, residente nel campo Rom di Scampia, è morta in circostanze ancora sospette. A infittire il mistero ha anche gli altri segni sul corpo, particolari che non lasciano presagire nulla di buono e che spingono gli inquirenti a delegare accertamenti di ogni tipo. Nessuna pista esclusa al momento per ricostruire le cause della morte della bimba di tre anni e mezzo condotta due giorni fa al San Giovanni Bosco. C'è massima cautela da parte del medico legale e della polizia giudiziaria che già da questa mattina potrebbe essere definita l'autopsia con tanto di iscrizioni, di nomi nel registro degli indagati. Si cerca di ricostruire le ultime ore di vita della piccola ma anche il contesto e le dinamiche sociali in cui ha trascorso la sua breve esistenza. Ieri sono state messe a confronto le versioni rese nelle prime ore dai genitori della bambina, due immigrati provenienti dalla Serbia, assieme ad altri potenziali testimoni, sempre e comunque legati a quello spaccato di degrado che è il campo Rom di Scampia. Non c'è una pista battuta in via esclusiva. Ogni tassello di questa storia sarà esplorato con la stessa fermezza investigativa. Di sicuro la morte di Martina resta un giallo anche alla luce di un particolare ritenuto tutt'altro che secondario. Martina era nuda, la piccola non aveva i vestiti. Una questione su cui sono stati a lungo ascoltati i genitori. Risposte evasive, scenario che resta per molti versi confuso. Stando a una prima ricostruzione, la bambina potrebbe aver trascorso diverse ore all'interno dell'auto in cui è deceduta. Si tratta di una vettura di proprietà del nonno usata spesso come punto di appoggio da parte di altri esponenti della stessa comunità di nomadi in cui Martina era nata e aveva vissuto. Ora dalle altre province promettevano posti di lavoro in cambio di denaro in una clinica privata sannita. Si tratta di tre persone arrestate questa mattina dai carabinieri del NAS. Sentiamo il servizio di Enzo Spezia. Avrebbero promesso assunzioni mai avvenute alla clinica Maugeri di Telese Terme nel Sannio, millantando amicizie importanti a livello regionale, addirittura quella di un funzionario e del presidente della regione. Decine le persone che finite in trappola dal 2015 avrebbero sborsato complessivamente 185 mila euro, denaro necessario per avere un posto di lavoro, secondo l'accusa. È il quadro che salta fuori dall'indagine del PM Francesca Saccone, dei carabinieri del NAS di Salerno, sfociata in tre arresti. I domiciliari sono stati ordinati dal GIP Loredana Camerlingo per un 64enne, medico di Telese Terme, un impiegato 55enne di Foglianise e per un infermiere a 47enne di Cerrito Sannite, in servizio alla Maugeri. Clinica, peraltro, del tutto estranea alla vicenda. Truffa aggravata, millantato credito è falso. Questa è l'ipotesi di reato contestate. È l'epilogo cautelare di un'inchiesta supportata anche da intercettazioni telefoniche, avviata meno di un anno fa dopo la denuncia di una paziente che durante un ricovero si sarebbe sentita proporre la possibilità di assicurare un'occupazione ai propri figli, dietro il versamento di una somma, di cui l'attività investigativa, nello scorso marzo scandita da una serie di perquisizioni che avevano riguardato anche altre persone che avrebbe fatto luce, secondo gli inquirenti, su una situazione molto più ampia. Nel mirino il bisogno di lavoro e l'illusione di poterlo ottenere attraverso una scorciatoia, quella che avrebbero a vario titolo offerto i tre indagati, numerosi papà e le mamme che avrebbero abboccato, sperando vanamente, di aver dato un futuro ai propri cari. Ancora cronaca, Grotta Minarda in Irpini a quattro arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti smerciavano hashish e cocaina nella villa comunale. Spacciavano cocaina e hashish nella villa comunale di Grotta Minarda. I carabinieri di Ariano Irpino, coadiuvati dal settimo nucleo elicotteri di Ponte Cagnano al termine di un'articolata indagine denominata Piazza Pulita, hanno arrestato quattro persone. Le indagini si sono sviluppate tra febbraio e giugno 2017. L'attività investigativa è andata avanti attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamenti con l'ausilio di telecamere. Nei confronti delle quattro persone sono scattate ordinanze applicative di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari. Le successive indagini hanno consentito di accertare l'esistenza di una fiorente attività di spaccio da parte dei quattro soggetti, destinata in particolare a minorenni, nel comune di Grotta Minarda e presso la villa comunale De Curtis. L'attività investigativa ha consentito di effettuare ulteriori sette arresti in flagranza di reato e recuperare 860 grammi di hashish e marijuana e 41 grammi di cocaina. L'operazione ha visto impegnati numerosi uomini dell'arma, con l'ausilio di un elicottero che ha sorvolato per ore Grotta Minarda, mentre le gazzelle dei carabinieri della Compagnia di Ariano prelevavano gli uomini dalle rispettive abitazioni. Resta così alta l'attenzione dei militari della Compagnia di Ariano sotto la direzione della Procura della Repubblica di Benevento nei confronti del fenomeno dello spaccio e delle sostanze stupefacenti. Il sistema di concessione ai privati della gestione dei musei napoletani è andato in tilt. La Corte dei Conti ha aperto un'inchiesta, si profila un danno erariale di oltre 8 miliardi. Intanto i giudici contabili convocano anche la giunta dei magistris per vederci chiaro sui conti del comune. La Corte dei Conti della Campagna ha aperto un'inchiesta sulle concessioni del patrimonio culturale di Napoli. Il polo museale napoletano è nel mirino. Nell'indagine si cerca di fare luce sulla gestione delle biglietterie dei musei nel periodo dal 2001 al 2008. La privatizzazione si fonda su un sistema di gare che danno in concessione ad imprese private alcuni servizi vitali dei musei come la bigliettazione, la sorveglianza, le librerie, i ristoranti e soprattutto l'organizzazione di mostre ed eventi. L'indagine accende ora i riflettori proprio sui meccanismi di questo sistema. Gli 007 contabili hanno scoperto un danno erariale di 8 miliardi e 500 milioni di euro. Secondo la procura contabile, tra i requisiti che portarono ad aggiudicarsi la gara, c'era l'obbligo da parte delle società di organizzare mostre e convegni per una cifra di oltre un milione di euro all'anno. Ma queste iniziative non sarebbero mai state fatte, sebbene le società, secondo i PM, abbiano comunque nel corso degli anni percepito fondi da enti pubblici come Comune e Regione. Adesso la procura della Corte dei Conti chiama a rispondere l'ex soprintendente del Polo Museale di Napoli, Nicola Spinosa, Guido Savarese, responsabile dell'Electa Napoli, la società che vinse l'appalto e l'associazione civita preseduta da Gianni Letta. Ora questi ultimi hanno 45 giorni di tempo per produrre le loro contradduzioni e a quel punto la procura deciderà se andare a processo. Intanto, sempre la Corte dei Conti ha puntato i fari sull'entità del disavanzo del Comune di Napoli e sul piano di risanamento. La sezione regionale di controllo della Campania ha deferito Palazzo San Giacomo in pubblica udienza per il 21 luglio prossimo. Scandalo, diplomi truccati alla scuola parificata Flavio Gioia di Maiori in costiera amalfitana a processo i gestori dell'Istituto e i 32 docenti accusati di aver concesso il diploma ad alunni che in realtà non frequentavano le lezioni. Sono stati rinviati a giudizio ieri mattina i gestori dell'Istituto Flavio Gioia Maiori e 33 insegnanti provenienti in maggioranza dall'agronacerino sarnese Costa da Amalfi nell'ambito dell'inchiesta relativa ai diplomi facili conseguiti nell'anno scolastico 2010-2011 da centinaia di persone nella scuola parificata. Rispondono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al falso. Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti i titolari della scuola avrebbero fatto della mancata annotazione delle assenze e un modus operandi consolidato mentre i docenti si sarebbero adeguati alle indicazioni falsificando i registri di classe con presenze inesistenti e spesso facendo figurare come orario di lezione anche fasce temporali in cui la scuola era in realtà chiusa. La prassi era stata adottata per tutti e due gli indirizzi di studio della scuola di via Gaetano Capone quello commerciale e quello turistico. Per ora i casi di falso accertati dalla procura sono 30 tutti relativi all'anno scolastico 2010-2011. Si parte da un episodio del 20 ottobre del 2010 quando dalle indagini risulta che in classe erano presenti 6 studenti mentre nei documenti si segnalavano 107 presenti su un totale di 181 iscritti. Poi dal 7 aprile al 26 maggio dell'anno successivo la polizia giudiziaria registrava altre 29 giornate in cui i docenti avrebbero truccato i registri delle presenze. Rita Pastore 44 anni originaria di Noceara Inferiore residente a San Marzano sul Sarno figura come amministratrice della società mentre il marito Bartolo Campione ricopre il ruolo di dirigente scolastico. Sarebbero stati loro secondo le indagini della procura di Salerno organizzare un meccanismo che consentiva di attirare iscritti con la promessa di diplomi facili garantendogli l'accesso all'esame di Stato senza che fossero obbligati a frequentare le elezioni. Ieri il giudice dell'udienza preliminare Vincenzo Pellegrino ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio affissato al prossimo febbraio l'inizio del processo davanti alla terza sezione penale. E ad Avellino ancora un giallo attorno alle dimissioni annunciate dal sindaco Foti stasera resa dei conti nel gruppo del PD e la moglie del sindaco si sfoga su Facebook. Foti decide di non decidere e si prende altri due giorni di riflessione ma sembra allontanarsi lo spettro delle dimissioni. Il suo portavoce stamattina in comune ha fatto sapere che né oggi né domani il sindaco andrà a Palazzo di Città 48 ore per staccare la spina durante le quali però incontrerà il capogruppo del PD Giacobbe per sondare il terreno fragile che ancora lo sorregge e sorregge la sua sgangherata maggioranza. Le parole di ieri di Giacobbe suonano però come un de profundis per l'amministrazione non mi sento più garantito dal sindaco insomma si sfila e crediamo non si dannerà l'anima per ricomporre i cocci del vaso anche se aggiunge in questo momento un commissario sarebbe deleterio. Il gruppo si incontrerà stasera alle 19 a Via Tagliamento se Foti non parla lo fa la moglie attraverso Facebook Liliana Urciuoli scrive c'è un limite a tutto adesso basta meglio pensare ad altro e intanto dalla minoranza Preziosi chiede al sindaco uno scatto d'orgoglio per una volta di a seguito a quello che ha detto se il sindaco vuole bene alla città protocolli le dimissioni perché così avanti non si può andare se invece vuole continuare a distruggere la città continui per la sua strada perché sta facendo bene nell'opera di distruzione di una comunità di essere presente in consiglio non sapendo se abbiamo meno un sindaco onestamente se mi sembra prendere in giro le persone intanto la maggioranza o quel che ne resta ormai naviga a vista e ieri appena sette consiglieri hanno approvato un provvedimento a dir poco importante come la fuoriuscita del comune dal consorzio industriale Asi uscirse dall'Asi senza una motivazione con sette voti su 32 onestamente mi sembra davvero poco insomma e anche Clemente Mastella medita le dimissioni il primo cittadino di Benevento ha annunciato la volontà di lasciare Palazzo Mosti una volta ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sulla depurazione e lo sversamento nei fiumi Benevento è nel mirino dei magistrati perché non è ancora dotata di un depuratore anche se Mastella si è fatto carico di attivare la procedura per la sua realizzazione e il sindaco Mastella stamattina a Palazzo Mosti ha incontrato i rappresentanti dei sindacati c'è l'intesa con la CGL sulla mensa scolastica sentiamo un primo passo per discutere delle diverse vertenze che riguardano il mondo del lavoro a Benevento lo hanno compiuto questa mattina a Palazzo Mosti le organizzazioni sindacali che hanno incontrato il primo cittadino Clemente Mastella oggi un primo incontro un primo approccio alle vertenze non siamo entrati nel merito delle vertenze perché sono tante però ci siamo dati l'impegno di affrontarlo di volta in volta con un tavolo permanente che io tengo a precisare deve essere un tavolo che si riunisce prima dell'affrontare i problemi e non dopo un tavolo chiesto mille volte che finalmente è arrivato concretizzando l'accordo in particolare riguardo alla questione dell'obbligatorietà della mensa scolastica oggi il comune ha preso una decisione che noi condividiamo che era la decisione che volevamo fosse assunta l'anno scorso che era quella dell'obbligatorietà del servizio mensa quindi il comune oggi dove ci trova favorevoli rispetto a questa cosa perché appunto l'abbiamo sempre sostenuta come CGL ritiene che il servizio mensa offerto ai bambini che sono figli dei cittadini benedimentani debba essere un servizio obbligatorio per cui sposa appieno quello che noi abbiamo sostenuto negli anni passati e quindi via il panino via i ristoranti che fornivano diciamo perché questo ha fatto sì che ci fosse un calo nel servizio dei pafti e il calo del servizio diciamo dei pafti comportava naturalmente insomma come contromisura un calo dei dipendenti da utilizzare per l'espletamento del servizio appuntamento al PAN di Napoli domani alle 10.30 per la presentazione di Endometriosis 2017 il congresso degli specialisti di endometriosi che da tutto il mondo convergeranno nel capoluogo campano per una tre giorni al Castel del Lovo dal 13 al 16 di settembre dovremo avere anche delle immagini che riguardano la clinica Malzoni che ha ideato e promosso attraverso il professor Mario Malzoni direttore del centro di chirurgia pelvica avanzata l'evento Malzoni è anche presidente della società italiana di endoscopia ginecologica e l'evento sarà illustrato dallo stesso specialista insieme all'assessore comunale di Napoli Alessandra Clemente assessore con delega all'immagine e alla promozione della città nel corso del congresso si alterneranno letture magistrali con interventi di chirurgia alla parascopica trasmessi in diretta dalle sale operatorie della clinica RUES di Napoli attrezzata per procedure di chirurgia pelvica endoscopica all'avanguardia nella sala giunta del comune di Salerno questa mattina i sindaci della costiera malfitana alla presenza del primo cittadino Vincenzo Napoli e dell'assessore Roberto De Luca hanno sottoscritto la convenzione per l'attuazione di un progetto di valorizzazione culturale che interesserà tutto il territorio della costiera vediamo questa mattina presso la sala giunta del palazzo di città alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli e dell'assessore al bilancio allo sviluppo Roberto De Luca oltre che dei sindaci dei comuni della costiera amalfitana è stata firmata la convenzione per l'attuazione del progetto di valorizzazione culturale presentato dal comune di Salerno e dai 12 comuni costieri e approvato dal MIBACT nell'ambito dell'avviso pubblico per la selezione di proposte di sostegno alla progettazione integrata di scala territoriale locale per la valorizzazione culturale nelle regioni Basilicata Calabria Campania Puglia Sicilia un progetto importante ritengo di valorizzazione del nostro patrimonio culturale soprattutto ma ovviamente anche paesaggistico naturalistico è una progettazione che abbiamo presentato al Ministero per i beni e le attività culturali che ha ricevuto ovviamente un'approvazione abbiamo anche dei fondi a disposizione li utilizzeremo per attività di progettazione per recuperare alcuni beni comune di Salerno e comune di Maiori ma soprattutto per attività immateriali dalla segnaletica a un piano di marketing a un piano di brand identity insomma tutta una serie di azioni per creare sempre più quel turismo strutturato e sistemico di cui abbiamo bisogno perché la prima volta il comune capoluogo insieme ai comuni della costa d'Amalfi intendono sviluppare un progetto di marketing territoriale che comprenda un territorio più vasto di quello della costiera e in termini di ricettività turistica e in termini di servizi che possono essere offerti agli ospiti che annualmente si accingono bene nella nostra zona nella nostra bellissima terra un'ampia pagina dedicata agli spettacoli saranno in 30.000 stasera allo stadio Arechi di Salerno per assistere al concerto del cantautore laziale Tiziano Ferro misure di sicurezza importanti e trasporti pubblici potenziati con corse notturne vediamo tutto pronto per il concerto di Tiziano Ferro che si terrà questa sera alle 21 presso lo stadio Arechi di Salerno un evento che prevede un'affluenza record di circa 30.000 spettatori che ha innescato la macchina organizzativa con la questura che ha emesso un'ordinanza sindacale di divieto di vendita nell'area circostante allo stadio Arechi nel raggio di 500 metri nonché all'interno dello stesso stadio di bottiglie di vetro in plastica e di lattine contenenti bevande alcoliche e non con un ulteriore divieto di detenzione nell'area circostante allo stadio e di introduzione all'interno dell'impianto di bottiglie in vetro in plastica e in lattine i cancelli dello stadio Arechi saranno aperti dalle ore 16.30 con i trasporti pubblici potenziati con corsi supplementari della metropolitana e treni notturni predisposti da Trenitalia ma c'è chi però non è attratto dal cantautore di Latine eppure vivendo a Salerno non sarà tra i 30.000 che affolleranno le tribune della Reiki e c'è chi invece è arrivata da Napoli pur di assistere a questo evento mi piace molto siamo qui per questo siamo di Napoli mi piace da sempre di Trenitalia però non mi sono preparata perché già la conoscevo sono molto appassionata perciò sono venuta fino a qui ad Avellino invece per il concerto di Ferragosto canterà Arisa vediamo come gli avellinesi hanno accolto questa scelta il nome di Arisa protagonista del concertone di Ferragosto ad Avellino divide il pubblico irpino da un lato chi apprezza considerando anche il budget circa 45.000 euro a disposizione del comune dall'altro chi storce il naso evocando artisti di altra caratura in questo momento non ha la portata delle finanze dell'amministrazione comunale a me non piace Arisa come cantante mi piace Arisa vedremo di esserci a Ferragosto sicuramente sì va bene è una cantante che mi piace non è male c'è a destra di meglio però ci sta non tanto però meglio questo che niente no almeno a me piace tanto non è male dai c'è di meglio però non lamentiamoci sempre a te Arisa piace? no per niente è un'artista che soddisfa pienamente a me non tanto Arisa va di buon livello per Avellino Avellino è una piccola città va bene penso sia un buon nome non rientra nei miei gusti musicali quindi no però però sì per Avellino penso sia un'ottima scelta è un po' spiritoso sul parco quei movimenti belli che piacciono a tutte le età è una bella artista ottima scelta sì sì e no mi fa un po' venire dalla depressione sinceramente io ho cantato anche Arisa quindi sì Arisa sì non c'è male con Asa Stuart insomma una bella cantante su chi avresti puntato tu? ma non lo so avrei puntato su un più rock Litfiba il Litfiba Piero Avellù andava meglio Liga Bue Eros Ramazzotti quel giorno io non ci sono abbiamo visto Salerno Avellino e ora andiamo a Benevento dove fervono i preparativi per il festival Benevento Città Spettacolo in città i provini per un allestimento con la regia del direttore artistico Renato Giordano sentiamo Maria Teresa De Lucia l'amore da Procofie fa i giorni nostri è l'excursus alla base del Romeo e Giulietta che sarà prodotto per il prossimo festival Benevento Città Spettacolo il regista Renato Giordano è impegnato nei provini per il cast dello spettacolo che sarà in scena il 26 agosto a Benevento in piazza Roma è una piccola produzione grazie a Fondazione Cotroneo a Fondazione Città Spettacolo con la mia regia e con le coreografie di Savera Cotroneo che qui a Benevento è un'istituzione per la danza stiamo cercando sia dei danzatori che degli attori perché chiaramente in scena particolare Romeo e Giulietta è una rivisitazione senza toccare ovviamente il grande il grande Shakespeare ci sono già dei nomi in questo cast la madre di Giulietta sarà di chiara fama l'amore è forse una delle espressioni più tipiche dei sud del mondo sì sì assolutamente sì perché noi siamo veraci noi siamo del sud cioè ci voliamo bene e quindi l'amore mi piaceva Roma e Giulietta perché è tempo secondo me di riscoprire l'amore una specie di fratellanza ma non nel senso bigotto tant'è che ti dico questa cosa in anteprima dedicheremo una notte alla spiritualità mi piaceva dedicare una notte a noi diciamo magari senza il fatidico telefonino per quella notte per il TG News è tutto grazie in regia Adaldo Fenizia ora le previsioni del tempo poi il TG Sport arrivederci grazie a tutti grazie a tutti